I tuoi amici sparano Sparavi anche tu una volta Che stai dicendo? Papà, oggi ho visto Giulia L'ho incontrata sul metro, fra la gente Se ne va in giro così, senza nessuna precauzione Schimmo No, 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 no. Eh, guardi dal buco della serratura, ma lo sai non è la verità, non è la verità che si vede dal buco della serratura, dal buco della serratura sembriamo tutti ladri, tutti assassini. Grazie a tutti.